buonasera signori abbiamo qui queste patatine fritte al caroline ripper extra hot family made in the usa e andiamo a assaggiarle qui con me la signora gemma prego che dici no pizzicanti miei pizziche voli cubi o cazzo no aspetta essi è proprio il sapore di petto che ci beva un po di vina per farmela passare inquadro la mia cicas la seconda meno peggio si reagisce molto meglio il piccante è la prima buono dai mangiabile ma mangerò un'altra e basta ve lo consiglio un simpatico appetizer arrivederci